Difenderanno gli italiani gli italiani, quegli italiani che hanno voglia di difendere gli italiani, non coloro che hanno voglia di trasformare i nostri alberghi in centri di accoglienza. Noi ci troviamo italiani che vivono in automobile causa crisi economica, abbiamo 10 milioni di persone italiane che vivono sotto la soglia di povertà, il 44% di disoccupazione giovanile e voi pensate a portare gli immigrati negli alberghi quattro stelle, questa è una vergogna, questa è la vergogna europea di questo governo, questo governo ci rende di rimbelli dell'Europa e voi state appoggiando questo governo, è vergognoso, Librandi è vergognoso che tu venga in televisione ancora a dire che stai difendendo gli italiani, tu stai difendendo coloro che arrivano e trasformano le nostre città come abbiamo visto fino adesso, il lavoro, l'economia, fermatevi un attimo, un attimo solo perché poi Meloni se ne va.